I tempi vanno sfruttati senza perdere troppo terreno ma probabilmente la regione assicurerà più flessibilità nelle scadenze. Gli uffici comunali hanno avviato le prime interlocuzioni per i progetti di messa in sicurezza delle due ex discariche industriali di Cipolla e Marabusca. Allo Stato solo per la procedura di Cipolla nella zona di Contrada Piana del Signore il municipio ha ricevuto la relativa notifica. Le attività sono coperte con fondi per circa 10 milioni di euro a seguito del protocollo d'intesa firmato dal comune dalla stessa regione. In settimana è previsto un tavolo tecnico con i funzionari palermitani, il nodo da sciogliere e quello della progettazione trattandosi della messa in sicurezza di un sito pericoloso dove per decenni sono stati stoccati idrocarburi e sostanze altamente impattanti. Occorreranno non meno di 5 o 6 mesi. L'assessore regionale Daniela Baglieri aveva parlato di un termine di 6 mesi entro il quale Palazzo di Città avrebbe dovuto trasmettere la progettazione esecutiva. I tempi però non sembrano coincidere. Sono tre le soluzioni sulle quali si lavora. Palazzo di Città potrebbe optare per un bando europeo così da affidare la progettazione della messa in sicurezza ma i tempi si dilaterebbero ancora di più. Eni su richiesta del municipio dopo interlocuzioni informali con il vice sindaco Terenziano Di Stefano ha dato la propria disponibilità di intervenire ma bisogna però valutare gli aspetti contrattuali e c'è qualche dubbio su una strada di questo tipo. Sembra che funzionali comunali siano invece propensi per un'ipotesi che porti in gara una progettazione basic da far seguire all'appalto integrato dei lavori. In questo modo Eni potrebbe intervenire con la progettazione di base. Sono valutazioni che il dirigente del settore ambiente del municipio e l'assessore Di Stefano sottoporranno all'attenzione del tavolo regionale. Successivamente si avvierà il confronto anche con gli enti di controllo come Ispra e Arpa e con il dipartimento regionale che segue queste procedure. Sarà quella la sede per riferire sulla procedura che verrà adottata. Una cosa è certa Palermo non pare così intransigente sulla tempistica. I sei mesi per trasmettere la progettazione esecutiva spiega il vice sindaco Di Stefano non sono perentori. Il comune dovrà però dimostrare di aver già in atto tutte le procedure per arrivare ai progetti e ai lavori così da ottenere più tempo che sarà inevitabilmente necessario. Si tratta infatti di progettazioni complesse su interventi di messa in sicurezza che non sono mai stati realizzati. Palazzo di città tra le altre cose soffre di carenza di personale specializzato in questo tipo di attività. Sul tavolo ci sono le carte del sito di Cipolla ma probabilmente lo stesso ITER verrà istruito anche per Marabusca in entrambi i casi e il municipio ad essere soggetto attuatore. Deve coordinare tutte le fasi appena il taglio dei fondi per Marabusca però c'è il decreto di finanziamento per circa 13 milioni di euro ma si attende la notifica per far scattare i termini e avviare l'ITER per la progettazione. Con la riunione in regione in settimana il quadro dovrebbe essere più chiaro.